Quattro giornate per dare lustro e riconoscimento ad un grande personaggio della cultura italiana, Anton Giulio Maiano, precursore dello sceneggiato, oggi fiction televisiva, nonché autore di veri e propri capolavori per la televisione italiana, tratti da romanzi e testi di grandi autori come Capitan Fracassa, La Cittadella, Tenente Sheridan, La Freccia Nera. A Maiano, nato a Chieti nel 1909, l'amministrazione comunale ha voluto dedicare la prima edizione del premio internazionale con l'appuntamento in programma dal 30 novembre al 3 dicembre. Sentiamo l'assessore alla cultura Paolo De Cesare. Quattro giornate dove parleremo di cultura perché Chieti è cultura e deve assolutamente continuare su quest'onda avendo una centralità soprattutto sul teatro direi per quello che è il teatro marruccino ma ancora per la televisione e vogliamo coinvolgere anche le scuole, questa è l'intenzione per cui ci saranno presentazioni di libri, un incontro, un cineforum con le scuole, con degli ospiti importanti, ci sarà la serata inaugurale con degli ospiti del mondo della televisione e del cinema e poi ci sarà il premio con la serata di gala sabato 3 dicembre presso il teatro marruccino dove la giuria che voglio ricordare è presieduta da Michele Placido mentre il comitato istituzionale è presieduto a livello onorario dal dottor Gianni Letta dicevo sabato 3 dicembre ci saranno degli illustri premiati nel campo non solo della televisione ma anche dei registi del cinema, degli sceneggiatori e davvero abbiamo voluto coinvolgere personalità di livello nazionale e internazionale. Direttore artistico del premio Davide Cabuti, compositore e regista per il cinema e il teatro il quale ha sintetizzato così la figura di Maiano. È stato un grandissimo regista di cinema e soprattutto di televisione, un grande sceneggiatore pochi sanno che ha lavorato con mostri sagri del cinema quali Blasetti, Camillo Mastrocinque e noi gli tributeremo il giusto omaggio perché è un grande figlio della nostra terra quindi spero che le nuove generazioni vengano numerose a questi nostri appuntamenti per conoscere un grande uomo e un grande personaggio nel mondo della cultura. In una prossima conferenza stampa, probabilmente il 25 novembre, verranno svelati i nomi dei premiati tutti comunque personaggi che hanno lavorato con il grande sceneggiatore. Ho capito.